capitolo 14 wargrave figure di cera sonni il nostro stufato monmore si è sarcastico battaglia fra monmore si è il calderino del tè gli studi sul benjo di giorgio scoraggiamenti difficoltà sulla via del dilettante di musica la corna musa harris dopo cena si sente triste giorgio e io andiamo a passeggio ritorniamo affamati e bagnati la stranezza di harris harris e i cigni harris ha una notte inquieta si levò una brezza dopo colazione che ci portò gentilmente oltre wargrave e shiplake avvolta dalla grave luce d'un pomeriggio estivo wargrave annidata nell'incurvatura del fiume vi si presenta come un bel quadro antico e vi rimane a lungo sulla retina della memoria l'albergo giorgio e il drago di wargrave vanta un'insegna dipinta su un lato da leslie e sull'altro da hodson leslie ha figurato la battaglia hodson ha immaginato la scena dopo la battaglia cioè giorgio che compiuta la fatica si gode la sua pinta di birra dei l'autore di sandford and merton visse e maggior onore per il luogo fu ucciso a wargrave nella chiesa aveva un monumento alla signora sarah hill che lasciò per testamento 30 lire annue da esser divisi a pasqua fra due fanciulli e due fanciulle che hanno obbedito sempre i loro genitori e che a conoscenza pubblica non hanno mai bestemmiato detto menzogna non hanno mai rubato o rotto delle finestre immaginate che si possa rinunziare a tutto questo per un po' più di 7 lire all'anno proprio non mette conto corre voce nella città che una volta molti anni fa apparve un ragazzo che non aveva commesso nessuna di queste cose o che a ogni modo non si sapeva le avesse mai commesse già che era questa la condizione richiesta e che conquistò la gloriosa palma egli fu messo in mostra per tre settimane nella gran sala del municipio sotto una campana di vetro nessuno sa da quel tempo che sia avvenuto del denaro si dice che dopo sia stato assegnato sempre all'ultimo museo di cera ship lake è un piccolo villaggio ma è sulla collina e non si scorge dal fiume tennison si sposò nella chiesa di ship lake il fiume fino a sonnin serpeggia fra molte isole ed è molto placido raccolto e solitario poca gente e nell'ora del crepuscolo qualche coppia di rustici innamorati che passeggiano lungo le rive i belli imbusti e gli eleganti sono stati lasciati indietro a helly e il lugubre sudicio ridin non è ancora raggiunto è una parte del fiume nella quale si sogna dei giorni passati e le forme e le facce svanite e le cose che possono essere state e che non sono li confondono arrivamo a sonnin e andammo a fare una passeggiatina per il villaggio è il più incantevole cantuccio del tamigi sembra più un villaggio da palcoscenico che una costruzione di mattoni e di calce ogni cosa è soffocata dalle rose e allora nei primi giorni di giugno esse erano fiorite in aiuole di squisito splendore se vi fermate a sonnin sostate al bull dietro la chiesa è un vero quadro d'un vecchio albergo di campagna con un verde cortile quadrato dove sui sedili sotto gli alberi i vecchi si riuniscono la sera a bere la birra e a discutere della politica paesana con stanze bizzarre camere finestre ingraticciate e delle scale malcomode e dei corridoi tortuosi vogammo intorno al dolce sonnin per un'ora a un dipresso e poi essendosi fatto troppo tardi per spingerci fino oltre ridin decidemmo di ritornare a un'isola dello ship lake e di fermarci colà per la notte arrivamo che era ancora presto e giorgio disse che siccome c'era gran tempo innanzi a noi si aveva l'occasione di tentare la preparazione di una buona magnifica cena lui ci avrebbe mostrato di che cosa fosse capace in fatto di culinaria e dichiarò che con la verdura i resti del manzo freddo e tutti i rimasugli c'era da improvvisare un meraviglioso stufato irlandese l'idea era affascinante giorgio raccolse della legna e accese il fuoco e io e harris ci mettemmo a mondare le patate non avrei mai pensato che la mondatura delle patate fosse un'impresa tale il lavoro risultò la più gran cosa della sua specie che avessimo mai affrontata cominciamo allegramente si potrebbe dire quasi leggermente ma la nostra incuranza si era bella e dileguata nel momento che la prima patata fu finita quanto più la sbucciavamo tanto più buccia sembrava le rimanesse e quando le fu tolta tutta la buccia e le furono tolti tutti gli occhi la patata non c'era più almeno nulla che si potesse considerare quale una patata venne giorgio e le un'occhiata essa era un dipresso della dimensione di una noce moscata e gli disse così non va voi le sprecate dovete raschiarle così le raschiamo ma era più difficile che sbucciarle sono d'una forma così bizzarra le patate tutte bozze ed escrescenze e fossette lavorammo gaiamente per 25 minuti e avevamo raschiate quattro patate poi cessammo dicendo che ci sarebbe voluta tutta la sera per raschiare noi stessi non sapevo che una faccenda come la raschiatura delle patate potesse confondere una persona sembrava difficile credere che dalla raschiatura in cui io e harris ci eravamo tuffati mezzo soffocati potessero essere uscite quattro sole patate questo mostra che cosa si possa ottenere con l'economia e l'attenzione giorgio disse che era assurdo aver solo quattro patate in uno stufato irlandese così ne lavammo un'altra mezza dozzina e le mettemmo nello stufato senza sbocciarle aggiungemmo anche un cavolo e un paio di chili di piselli giorgio rimescolò il tutto e poi avendo osservato che vi rimaneva tant'altro spazio frugammo nelle due ceste e ne cavammo quante ne potemmo cavare per aggiungerle allo stufato vera un mezzo pasticcio di maiale e un pezzo di prosciutto cotto avanzato e mettemmo anche quelli poi giorgio trovò una mezza scatola di salmone e la vuotò nel recipiente disse che quello era il vantaggio dello stufato irlandese vera da sbarazzarsi d'un mucchio di roba io ripescai un paio d'uova che si erano screpolate e le misi col resto giorgio osservò che avrebbero corroborato il sugo dimentico gli altri ingredienti ma so che nulla andò sciupato ricordo che verso la fine montmorency il quale aveva mostrato grande interesse a tutte le operazioni filò via un tratto con un'aria grave e pensosa riapparendo pochi minuti dopo con un topo morto in bocca che gli evidentemente voleva presentare come proprio contributo al pasto se con spirito sarcastico o con desiderio genuino di fare anche lui la sua parte non saprei dire discutemmo un po se il topo dovesse o no entrare nello stufato arrestisse che sarebbe andato ottimamente mischiato con tutto il resto e che ogni poco faceva ma giorgio resistette tenendo conto dei precedenti già che non aveva mai saputo che i topi d'acqua entrassero nello stufato irlandese e nel dubbio era meglio appigliarsi al sicuro e non tentare esperimenti harris disse se non si tentano le cose nuove come potete dirne la qualità sono gli uomini come voi che ostacolano il progresso del mondo pensate all'uomo che per primo tentò la salsiccia tedesca fu un gran buon successo quello stufato irlandese non avevo mai tanto gustato un pasto si sentiva qualcosa di così nuovo e piccante il palato si stanca delle vecchie cose comuni e lì c'era un piatto con una fragranza nuova con un sapore come nient'altro su questa terra ed era anche nutriente come giorgio disse vera della sostanza nelle vivande i piselli e le patate sarebbero potuti essere un poco più teneri ma avevamo tutti e tre dei buoni denti e la cosa non aveva alcuna importanza e quanto al sugo esso era un poema un po troppo grave forse per uno stomaco debole ma sostanzioso finimmo col tè e la torta di ciliegie monmore si sostenne una battaglia col calderino durante il tempo del tè e ne ebbe la peggio in tutta l'escursione esso aveva mostrato una grande curiosità riguardo al calderino si sedeva a guardarlo mentre bolliva con un'espressione perplessa e provava a eccitarlo di tanto in tanto digrignando i denti quando il recipiente cominciava a schizzare e a fumare monmore si riteneva quei segni come una sfida e voleva saltarlo soltanto che in quel momento stesso qualcuno si slanciava a portargli via la preda prima che esso potesse raggiungerla quella sera monmore si risolse di anticipare al primo suono emesso dal calderino esso si levò digrignando i denti e avanzando in atteggiamento minaccioso il calderino era molto piccolo ma era pieno di coraggio e a un tratto gli sputò sul muso ah sì digrignò monmore si mostrando gli denti ti insegnerò io a trattare così un cane onesto e rispettabile o sudicio e miserabile briccone dal naso lungo avanti e si slanciò sul calderino e lo prese per il becco allora attraverso la calma della sera e ruppe uno straziante latrato e monmore si lasciò la barca e fece tre volte una passeggiata igienica intorno all'isola alla velocità di 35 miglia all'ora fermandosi di tanto in tanto a seppellire il naso in un po di fango freddo da quel giorno monmore si guardò il calderino con un misto di timore di sospetto e di odio tutte le volte che lo vedeva digrignava i denti e si ritraeva passo rapido con la coda abbassata e nell'istante che lo guardava covacciato sul fornello subito filava fuori della barca e se ne andava a sedersi sulla sponda aspettando che la faccenda del tè fosse finita giorgio prese il bengio dopo cena e voleva suonarlo ma harrys protestò dicendo che aveva il mal di testa e non si sentiva forte abbastanza da resistere allo strumento giorgio pensava invece che la musica potesse fargli bene la musica spesso gli aveva allenito i nervi e fugato il mal di testa e strimpellò due o tre note appunto per mostrare a harrys la dolcezza del suono harrys osservò che si sarebbe tenuto piuttosto il mal di testa fino a quel giorno giorgio non aveva mai imparato a sonare il bengio aveva incontrato troppo scoraggiamento dappertutto aveva tentato due o tre essere sul fiume di fare un po di pratica ma senza incontrare mai un cenno di approvazione le espressioni usate da harrys erano tali da scoraggiare chiunque e oltre a questo montmorency si sedeva a guaire forte durante tutto l'esercizio non era dare a giorgio l'occasione di formarsi perché guaisci a quel modo quando io suono egli esclamava indignato mentre con una scarpa prendeva di mira montmorency perché suoni a quel modo quando lui guaisce ribatteva harrys acchiappando la scarpa lascialo stare non può non guaire esso ha un orecchio musicale e la tua musica lo fa guaire così giorgio decise di rimandare lo studio del bengio al suo ritorno a casa ma neanche lì ebbe fortuna la signora poppet soleva presentarsi a dire che le dispiaceva moltissimo quanto a lei andava matta per la musica ma la signora di sopra era in stato interessante e il dottore temeva che quel suono potesse nuocere al bambino poi giorgio tentò di portare fuori il bengio di notte e di esercitarsi nella piazzetta ma gli abitanti in giro andarono a ricorrere alla polizia che una sera mandò una guardia ad arrestarlo la prova contro di lui era indiscutibile ed egli dove promettere che non avrebbe ricominciato per sei mesi dopo di ciò la cosa parve lo disarmasse trascorsi i sei mesi tentò debolmente un paio di volte di ripigliare i suoi esercizi ma avvera sempre da combattere contro la stessa freddezza contro la stessa mancanza di simpatia da parte del prossimo e dopo un po' disperò completamente e fece mettere un annuncio sui giornali per una vendita dello strumento con suo gran sacrificio non servendo più al proprietario e cominciò a imparare invece dei solitari con le carte deve essere scoraggiante imparare uno strumento musicale si penserebbe che la società per amor di se stessa dovesse fare il possibile per aiutare un uomo a conquistare l'arte di suonare uno strumento musicale ma invece no una volta conobbi un giovane che studiava la cornamosa e voi vi sorprenderete della quantità di opposizione contro la quale dovete combattere ebbene neppure dai membri della propria famiglia riceve ciò che si chiamerebbe un attivo incoraggiamento suo padre si dichiarò ostilissimo fin dal principio e parlò spietatamente della cosa il mio amico soleva levarsi presto la mattina per esercitarsi ma dove rinunziarvi per sua sorella che aveva delle disposizioni religiose e diceva che le sembrava terribile dover cominciare la giornata a quella maniera così egli rimaneva in piedi la notte a sonare dopo che la famiglia era andata a letto ma nemmeno questo giovò perché dava una cattiva reputazione alla casa la gente rincasando tardi si fermava di fuori ad ascoltare e poi la mattina appresso metteva in giro la voce per tutta la città che un orrendo omicidio era stato commesso nella notte in casa di jefferson e narrava ad aver udito le grida della vittima e le brutali bestemmie e le imprecazioni dell'assassino seguite dalle preghiere di pietà e dall'ultimo rantolo del cadavere così si permise che egli si esercitasse di giorno nella retro cucina con tutte le porte chiuse ma nonostante tutte le precauzioni i brani meglio riusciti arrivavano fin nel salotto e solevan commuovere la madre quasi fino alle lacrime e la diceva che le facevan venire in mente il suo povero padre era stato inghiottito da un pesce cane pover uomo mentre si bagnava sulla costa della nuova guinea d'onde le venisse quell'associazione di idee essa non si poteva spiegare poi gli riservarono un posticino nel fondo del giardino a circa un quarto di miglio dall'abitazione e gli facevan portar giù lo strumento quando aveva bisogno di farlo lavorare e a volte qualche visitatore ignaro della faccenda che dimenticavano di avvertire e mettere in guardia si trovava facendo una passeggiatina in giardino improvvisamente a tiro della cornamusa senza esser preparato e senza sapere che fosse se era un uomo di nervi forti se la cavava con le convulsioni ma se era una persona soltanto di intelligenza media ordinariamente diventava matta beh bisogna confessarlo qualche cosa di molto triste nei primi esercizi di un dilettante di cornamusa l'ho sentito anch'io nell'atto che ascoltavo il mio giovane amico la cornamusa è uno strumento difficile bisogna aver raccolto il fiato che basti a tutta l'aria da sonare prima di cominciare almeno così mi pareva guardando jefferson egli cominciava magnificamente con una specie di nota selvaggia piena e trionfale che vi scoteva tutto ma si faceva sempre meno animoso e l'ultima frase generalmente sveniva con una sbavatura e un sibilo si deve essere in buona salute per sonare la cornamusa il giovane jefferson imparò a sonar soltanto un'aria sulla sua cornamusa ma io non sentì mai nessuna lagnanza sulla scarsezza del suo repertorio nessuna mai l'aria era the campers are coming hooray hooray così diceva lui ma il padre sosteneva sempre che era the blue bells of scotlands nessuno sapeva ciò che fosse esattamente ma tutti si accordavano nel credere che fosse un'aria scozzese agli estranei erano permesse tre congetture e molti congetturavano ogni volta un'aria diversa harris si mostrò poco trattabile dopo la cena credo che l'avesse sconvolto lo stufato non era abituato ai trattamenti sontuosi così giorgio e io lo lasciamo nella barca e andammo a fare una passeggiata intorno a henley egli disse che si sarebbe bevuto un sorso di whisky e facendosi una pipata avrebbe preparato i giacigli per la notte noi al ritorno dovevamo gridare ed egli sarebbe accorso dall'isola a forza di remi a pigliarci non t'addormentare caro gli raccomandammo andandocene niente paura finché ho sullo stomaco il nostro stufato brontolò mentre si ritirava nell'isola henley si preparava per le regate ed era piena di trambusto incontrammo per la città parecchie persone di nostra conoscenza e nella loro piacevole compagnia il tempo passò con una certa rapidità di modo che erano quasi le undici quando noi ci avviamo per la nostra passeggiata di quattro miglia fino a casa come chiamavamo in quei giorni la nostra piccola imbarcazione era una brutta notte abbastanza fredda e cadeva una pioggia sottile come noi traversammo la campagna buia e silenziosa conversando sottovoce e domandandoci se fossimo o no sulla strada buona pensavamo alla nostra comoda barca con la sua viva luce che filtrava per la tela distesa con harris con monmorens e con lo whisky e desideriamo di esservici evocamo il quadro di noi stessi al di dentro stanchi e un po affamati del fiume oscuro e degli alberi informi e come una gigantesca lucciola al di sotto la nostra cara vecchia barca così comoda calda e allegra ci vedevamo a cena dentando un po di carne fredda e passandoci delle fette di pane udivamo il lieto tintinio dei coltelli e delle forchette le risate che riempivano tutto lo spazio e traboccavano per l'apertura nelle tenebre e affrettavamo il passo perché il quadro immaginario diventasse reale infilamo la strada d'alzaia e questo ci fece felici perché eravamo stati un po incerti se andassimo verso il fiume o ce stanchi e si desidera il letto incertezze simili vi angosciano oltrepassammo ship lake mentre l'orologio suonava le dodici e un quarto e allora giorgio disse pensoso tu ricordi per caso di quale isola si tratta no risposi facendomi anch'io pensoso no quante ve ne sono quattro soltanto rispose giorgio non vorrà dire se è sveglio e se non è sveglio io domandai ma lasciamo da parte quest'ordine di pensieri quando ci troviamo di rimpetto alla prima isola ci mettiamo a gridare ma non sudì alcuna risposta ce ne andiamo verso la seconda e gridamo anche lì ma con lo stesso risultato ah adesso ricordo disse giorgio era la terza e corremmo speranzosi verso la terza a gridare ma nessuno ci rispose la cosa diventava grave era già passata la mezzanotte gli alberghi di ship lake e di henley dovevano essere gremiti e noi non potevamo ritornare per andare a picchiare a delle case private e a domandare se ci fossero delle camere da affittare giorgio propose di tornare a henley ad assaltare un poliziotto per procurarci l'alloggio per la notte in guardina ma poi si ragionò e se la guardia rifiuta di condurci in gattabuia e ci risponde con solidi pugni non potevamo passare tutta la notte ad assaltare guardie e poi non volevamo esagerare e beccarci sei mesi disperatamente tentammo ciò che sembrava nel buio la quarta isola ma la fortuna non ci fu più favorevole la pioggia si era fatta grave ed evidentemente aveva intenzione di durare cominciamo a domandarci se non vi fossero più di quattro isole o se ci fossimo poi avvicinati ad esse e non fossimo invece a un miglio di distanza dal punto dove bisognava che ci trovassimo e addirittura in un'ignota parte del fiume tutto appariva così strano e diverso nel buio e allora comprendemmo le sofferenze dei bambini smarriti nel bosco appunto quando avevamo rinunziato a ogni speranza sì so che è sempre questo il tempo in cui accade qualche cosa nei romanzi e nei racconti ma non so che farci risolsi quando mi misi a scrivere questo libro che mi sarei mantenuto rigorosamente veritiero in tutto e così farò anche se dovessi servirmi a questo scopo di frasi comuni e assai trite fu appunto quando avevamo rinunziato a ogni speranza debbo proprio dir così appunto quando avevamo rinunziato a ogni speranza ebbe a un tratto la visione un po' al di sotto di noi d'una strana bizzarra specie di barlume che segetava fra gli alberi della sponda opposta per un istante pensai agli spiriti era un lume così fioco e misterioso il momento appresso mi lampeggiò l'idea che fosse la nostra barca ed io emisi un tale grido attraverso il fiume che parve la notte si scotesse nel suo letto aspettammo senza fiato per un minuto e poi ah la più divina musica delle tenebre udimmo in risposta il latrato di monmorency gridammo allora con voce abbastanza forte da seppellire i sette dormienti non ho mai potuto capire perché mai ci volesse a svegliarne sette più baccano che per uno e dopo un tempo che ci parve un'ora ma che in realtà credo fosse di cinque minuti vedemmo la barca illuminata a strisciare lentamente sulla corrente nera e udimmo la sonnata voce di harris domandarci dove fossimo vera un'ingiustificabile stranezza nell'aspetto di harris qualcosa più della semplice stanchezza ordinaria egli avvicinò la barca contro una parte della sponda dalla quale era assolutamente impossibile di scendere e immediatamente se ne andò a dormire ci volle un'immensa quantità di strigli e di ruggiti per svegliarlo di nuovo e fargli capire qualcosa ma ci riuscimmo finalmente e ci installammo sicuramente a bordo come osservammo harris aveva in viso una triste espressione ci fece l'impressione di un uomo a cui fosse successa una disgrazia gli domandammo se gli fosse accaduto qualche cosa ed egli ci rispose i cigni sembrava che ci fossimo ormeggiati presso un nido di cigni e tosto che io e giorgio ce n'eravamo andati fosse ritornata la femmina a farvi del baccano harris l'aveva scacciata e se era corsa a chiamare il maschio harris raccontava che aveva sostenuto una vera battaglia coi due cigni ma che il suo coraggio e la sua abilità erano prevalsi sbaragliandoli mezz'ora dopo erano ritornati con altri 18 cigni doveva essersi svolta una terribile lotta a quel che si poteva raccogliere dalla relazione di harris i cigni avevano tentato di trascinar lui e monmorens fuori dalla barca e di annegarli ed egli si era difeso come un eroe per quattro ore ammazzando il branco che si era tutto disperso a nuoto per andar aspirar lontano quanti cigni dici che fossero chiese giorgio 32 rispose harris assonnato se in questo momento hai detto che erano 18 disse giorgio no non è vero grugnì harris ho detto 12 credi che io non sappia contare non scoprimmo mai che cosa ci fosse di vero intorno a quei cigni interrogamo harris la mattina sull'argomento ed egli ci disse quali cigni e parve pensare che io e giorgio ce li fossimo sognati che delizia ci sembrò trovarci al sicuro nella barca dopo tutte le nostre fatiche e i nostri timori cenammo con ottimo appetito giorgio e io e ci sarebbe piaciuto farci un ponch dopo se avessimo trovato il whisky ma non ci fu verso domandamo a harris dove l'avesse cacciato ma parve non sapere che volesse dire whisky o di che cosa mai gli parlassimo mormoresi qualche cosa doveva sapere ma non disse nulla io dormii bene quella notte e avrei dormito meglio se non fosse stato per harris ho un vago ricordo d'essermi svegliato almeno una dozzina di volte durante la notte per colpa di harris che andava in giro nella barca con la lanterna cercando i suoi panni mi parve che si tormentasse tutta la notte per i panni due volte scosse giorgio e me per veder se per caso non giacessimo sui suoi calzoni giorgio la seconda volta diventò furioso perché diavolo hai bisogno dei calzoni durante la notte chiese indignato perché non ti butti giù a dormire la seconda volta che io mi svegliai lo trovai in ansia per le calze e la mia ultima nebbiosa rimembranza è di essere stato rotolato su un fianco ed aver udito harris mormorare dove diamine mai avesse cacciato l'ombrello capitolo quindicesimo doveri casalinghi l'amore del lavoro il vecchio lavoratore del fiume ciò che fa e ciò che vi dice che ha fatto scetticismo della nuova generazione ricordi delle prime vogate con la zattera giorgio il vecchio barcaiolo il suo metodo così calmo così pieno di pace il principiante un triste caso piaceri dell'amicizia la mia prima esperienza della vela possibile ragione della nostra salvezza ci svegliamo tardi la mattina presso e per desiderio di harris partecipammo a una colazione molto sobria senza squisitezze di sorta poi facemmo pulizia e mettemmo ogni cosa a posto un lungo lavoro che finì col darmi un'idea piuttosto chiara della questione che spesso mero posta come una donna cioè che non avesse altro in mano che una casa riuscisse a passare il tempo e verso le dieci ci mettemmo in rotta per ciò che avevamo determinato dovesse essere il viaggio d'una attiva giornata stabilimmo di remare come un diversivo dalla fatica del rimorchio e harris propose come la migliore disposizione che io e giorgio ci mettessimo i remi e lui al timone la proposta non mi parve niente affatto saggia e io dichiarai che harris avrebbe mostrato una più lodevole disposizione se avesse proposto di lavorare lui e giorgio e lasciar me riposare a me sembrava di far più di quanto avrei dovuto in ogni occorrenza e cominciavo a risentirmene un po a me sembrava di far più di quanto avrei dovuto in ogni occorrenza e cominciavo a risentirmene un po a me par sempre di prodigarmi più di quanto dovrei non che io abbia da ridire nulla contro il lavoro si badi il lavoro mi piace mi affascina e me ne sto seduto a guardarlo per ore e ore godo nell'averlo da presso e l'idea di liberarmene mi fa male al cuore il lavoro che si può darmi non sarà mai troppo accumular lavoro è diventato in me quasi una passione il mio studio ne è pieno così ora che non v'è più un pollice di spazio per altro e dovrò tosto abbandonarne una parte e con quanto rispetto anche tratto il mio lavoro un po del lavoro che io ho presso di me l'ho da anni e non si troverebbe su di esso neppure l'impronta ad un dito del mio lavoro sono orgoglioso di tanto in tanto lo prendo per spolverarlo nessuno che al pari di me lo tenga in uno stato migliore di conservazione ma benché io sia assetato di lavoro desidero che le cose siano giuste e non chiego più di quel che mi spetta ma io me lo trovo senza volerlo almeno così sembra e questo mi secca giorgio crede che in quanto a questo non è necessario che io mi angosci la mia natura più che scrupolosa e gli dice mi fa temere d'averne più di quanto me ne spetterebbe ma che in realtà non me ne tocchi nemmeno la metà ma auguro però che lo dica soltanto per confortarmi io ho sempre osservato che in una barca l'idea fissa ad ogni membro dell'equipaggio è quella di far lui tutto l'impressione di harris era che lui solo avesse lavorato ma giorgio d'altra parte ne rideva affermando che harris non aveva fatto nient'altro che mangiare e dormire e che lui invece e la sua persuasione era ferrea aveva fatto tutto il lavoro di qualche importanza aggiunse che non s'era mai trovato con un paio di poltroni quali harris e io questo divertì harris è verosimile che il nostro giorgio parli di lavoro si mise a ridere se mezz'ora sola di lavoro lo ammazzerebbe si è mai visto giorgio lavorare aggiunse volgendosi a me conveni con harris che non avevo mai veduto giorgio lavorare certamente mai da quando eravamo partiti veramente non so come tu possa dirlo comunque ribatte giorgio mi pigli un accidente se tu non hai fatto altro che dormire hai mai veduto harris pienamente sveglio tranne che allora dei pasti chiese giorgio volgendosi a me la verità mi spingeva a sostenere giorgio harris fin dal principio s'era dimostrato poco utile nella barca quando si trattava di dare una mano per belzebù a ogni modo ho fatto più di quanto ha fatto gerolamo soggiunse harris sì veramente non avresti potuto far meno aggiunse giorgio credo che gerolamo pensi d'essere il passeggero continuò harris e questa era la loro gratitudine per aver io portato essi e la loro miserabile barca per tutto il tratto da kingston per aver io sorvegliato e cercato tutto ciò che loro occorreva e per averli vegliati e serviti il mondo è fatto così superammo la difficoltà del momento disponendo che harris e giorgio dovessero remare fin oltre reading e che io di lì avrei tratto a rimorchio la barca trarre una barca pesante contro una forte corrente ha per me ora poche attrattive a me piace far figurare i giovani ho osservato che la maggior parte dei vecchi pratici del fiume si ritirano allo stesso modo tutte le volte che occorre molta forza di braccia alla maniera come si stende sui cuscini in fondo alla barca e incoraggia gli altri rematori raccontando aneddoti sulle meravigliose gesta da lui compiute durante l'ultima stagione si può riconoscere il vecchio pratico avete il coraggio di dire che vi sforzate molto e gli dice parlando solennemente fra lente boccate di fumo rivolgendosi ai due novizi sudati che si sono affaticati a remare contro corrente nell'ultima ora e mezzo ma se gianni biffles giacomo io la stagione scorsa remammo da marlo a gorin in un pomeriggio senza fermarci una sola volta te ne ricordi giacomo giacomo che si è fatto un letto a prua con tutte le coperte e i soprabiti che ha potuto raccogliere e che nelle due ultime ore ha dormito profondamente si sveglia in parte nel sentirsi chiamato e ricorda con precisione tutto e ricorda anche che vera una corrente particolarmente forte quel giorno e un vento impetuoso credo che si trattasse di 34 miglia aggiunge il primo interlocutore prendendo un altro guanciale da mettersi sotto la testa no no non esagerare tommaso mormora giacomo disapprovandolo al massimo 33 e giacomo e tommaso affatto esausti da questo sforzo oratorio si abbandonano al sonno ancora una volta e i due novellini e i remi si sentono assolutamente orgogliosi di portare a spasso a forza di braccia dei meravigliosi rematori quali giacomo e tommaso e si affannano con più energia che mai quando io ero giovane solevo ascoltare i discorsi dei miei maggiori e beverli e trangugiarli e digerirli parola per parola e poi desiderarne altri ma la nuova generazione par che non abbia la fede dei vecchi tempi giorgio harris e io nella stagione scorsa una volta prendemmo con noi un novellino e gli spacciamo le solite panzane delle meraviglie da noi compiute vogando in su controcorrente gli snocciolammo tutte le fandonie normali le fandonie rispettabili che hanno fatto sul fiume il loro dovere per anni con ogni barcaiolo e con ogni dilettante e ne aggiungemo sette interamente originali inventate da noi compresa una storia ad una certa verosimiglianza basata in qualche modo su un episodio poco credibile che era realmente accaduto alcuni anni prima in un grado alquanto diverso ad amici nostri una storia insomma che sarebbe stata creduta anche da un bambino senza perciò farsi male e quel giovane le derise tutte e ci domandò che ripetessimo immediatamente le nostre gesta scommettendo dieci contro uno che non ne saremmo stati capaci ci mettemmo quella mattina a chiacchierare dei nostri esercizi fluviali e a raccontar i nostri primi sforzi nell'arte del remo la mia prima memoria acquatica è di cinque piccoli amici dei quali ciascuno contribuì con sei soldi per noleggiare sul lago di regions park una barchetta bizzarramente costruita e per asciugarci poi nel casotto del custode del parco dopo avendo pigliato gusto all'acqua mi diedi da fare con le zattere in varie mattonaie suburbane un esercizio più interessante e animato di quanto si possa immaginare specialmente quando uno si trova in mezzo allo stagno e il proprietario dei materiali con i quali la zattere è costruita appare all'improvviso sulla riva con un grosso bastone in mano la vostra prima impressione alla vista di quel galantuomo è di non sentirvi comunque disposto alla compagnia e alla conversazione e se potete farlo senza apparir scortese cercate tutti i modi di evitarlo e il vostro oggetto perciò è di svignarvela dal lato opposto dello stagno e di andarvene a casa tranquillamente rapidamente fingendo di non vederlo egli al contrario brama di prendervi per mano e di parlarvi sembra che gli conosca vostro padre e che conosca bene anche voi ma questo non vattrà e verso di lui egli dice che vi insegnerà lui a prender le sue tavole a farne una zattera ma già che sapete già abbastanza bene come si fa l'offerta benché senza dubbio gentile sembra superflua da parte sua e voi non avete intenzione di disturbarlo accettandola la sua ansia di incontrarvi però è a prova contro ogni vostra freddezza e l'energia con cui egli corre intorno allo stagno per trovarsi sul punto preciso del vostro approdo è veramente lusinghiera in sommo grado se gli è di una struttura atticciata e asmatica potete facilmente sfuggire i suoi approcci ma se è del tipo giovanile dalle gambe lunghe l'incontro è inevitabile il colloquio però è estremamente breve e la maggior parte della conversazione è sostenuta da lui già che le vostre osservazioni sono d'ordine esclamativo e monosillabico e appena potete ve la date a gambe io dedicai circa tre mesi all'esercizio della zattera e avendo progredito quanto bastava in questo ramo dell'arte risolsi di imparare a modo quella del remo ed entrai in una delle società di canottaggio dellì a uscire sul fiume lì specialmente nel pomeriggio del sabato tosto si diventa abile a guidare la barca e rapido ad evitare gli investimenti da parte dei rematori gaglioffi o gli scontri da parte dei trasporti e inoltre si impara il più svelto e grazioso metodo di appiattarsi nel fondo della barca in modo da non essere lanciato nel fiume al passaggio dei cavi di rimorchio ma non si acquista lo stile non fu che quando arrivai sul tamigi che imparai lo stile il mio stile nel remare è ora molto ammirato la gente dice che è così bizzarro giorgio non si avvicinò all'acqua che quando ebbe 16 anni allora egli e altri otto signorini a un di presso della stessa età si recarono in corpo a chiù un sabato con l'idea di noleggiarvi una barca e di remare fino a richmond e di ritornarne uno della brigata un giovane dai capelli folti di nome joskin che aveva un paio di volte condotto un canotto sulla serpentine aveva detto a tutti che era un gran divertimento andare in barca la marea saliva piuttosto rapida quando essi raggiunsero l'approdo e una rigida brezza aspirava sul fiume ma a questo non li turbò affatto e si misero a scegliere la barca c'era un'imbarcazione da corsa a otto coppie di remi tirata sulla prodo e si incapricciarono di quella per piacere dissero volevano proprio quella il barcaiuolo era assente e c'era il suo ragazzo il ragazzo cercò di smorzare il loro ardire per l'imbarcazione a otto remi e mostrò loro due o tre barche del tipo di escursione per famiglia all'aspetto molto comode ma non vollero neppure sentirne parlare era quella a otto coppie di remi la barca in cui avrebbero figurato meglio così il ragazzo lavarò ed essi si cavarono le giacche e si prepararono a prendere il loro posto il ragazzo consigliò a giorgio che anche in quei giorni era il più grasso di tutti gli altri compagni di occupare il sedile numero 4 giorgio disse che sarebbe stato lietissimo d'essere il numero 4 e tosto andò a mettersi al posto di prima sedendo con le spalle al timone finalmente poterono farlo sedere dove gli toccava e quindi si disposero gli altri un ragazzo particolarmente nervoso fu nominato timoniere e joskin gli spiegò i principi del timone joskin stesso faceva da prodiere e disse ai compagni che era una cosa abbastanza semplice tutti gli altri non dovevano fare che imitarlo si dichiararono tutti pronti e il ragazzo sulla prodo prese una gaffa e li staccò dalla riva giorgio non sa descrivere in particolare ciò che avvenne egli ha il ricordo confuso di avere nell'istante immediato della partenza ricevuto un violento colpo al fianco dalla pala del remo numero 5 mentre nello stesso tempo gli sembrò che il sedile gli sparisse per incantesimo di sotto e lo mandasse disteso sulle tavole osservò anche una curiosa circostanza che il numero 2 giaceva nello stesso momento sulla schiena nel fondo della barca con le gambe in aria verosimilmente in un attacco di convulsioni passarono sotto il ponte di chiù di lato alla velocità di otto miglia all'ora joskin era il solo che remasse giorgio ristabilendosi sul sedile tentò di aiutarlo ma tuffando nell'acqua il remo questo con sua indicibile sorpresa scomparve sotto la barca e mancò poco non lo trascinasse con sé e allora il timoniere gettò nel fiume entrambe le funicelle del timone e si mise a piangere giorgio non seppe mai come essi tornassero arriva ma occorsero 40 minuti precisi una folla assiste al divertimento interessantissimo dal ponte di chiù e tutti gridavano agli otto ragazzi dei consigli diversi tre volte i ragazzi riuscirono a ritrarre la barca dall'arco e tre volte la riportarono di nuovo sotto l'arco e tutte le volte che il timoniere si vedeva sotto il ponte rompeva i nuovi singhiozzi giorgio disse che quel pomeriggio disperò assolutamente che un giorno avrebbe potuto condurre una barca harris è più novizio a remare nel mare che nel fiume e dice che come esercizio preferisce il mare io no ricordo l'estate scorsa di aver condotto un canotto a largo di eastbourne avevo negli anni passati remato molto in mare e credevo sarei andato magnificamente ma trovai che avevo dimenticato interamente l'arte quando un remo arrivava profondo sott'acqua l'altro si agitava violentamente in aria per toccare l'acqua con entrambi contemporaneamente dovevo stare in piedi la passeggiata era affollata di tutta l'inclita e di tutto il colto pubblico e io dovetti passar loro davanti remando in quel modo ridicolo sbarcai a mezza via sulla spiaggia e m'assicurai i servizi di un vecchio barcaiolo per tornare indietro mi piace guardare un vecchio barcaiolo che rema specialmente se è stato noleggiato a ore venne il suo metodo qualcosa di così bellamente calmo e riposante nulla della fretta ansiosa del vehemente sforzo che diventa sempre più il tormento della vita del secolo decimo nono egli non si sforza mai d'oltrepassare tutte le altre barche se un'altra lo raggiunge e gli passa davanti egli non se ne cura e in realtà tutte lo raggiungono e gli passano davanti tutte quelle che seguono la stessa rotta questo turberebbe e irriterebbe molti altri la sublime equanimità in simili cimenti del barcaiolo annolo ci dà una magnifica lezione contro l'ambizione e l'alterigia l'arte di condurre innanzi la barca coi remi non è molto difficile ma ci vuole molta pratica prima che uno si senta a suo agio nell'atto di remare sfilando innanzi a delle ragazze è il tempo che impaccia un novellino è strano egli dice quando la ventesima volta in cinque minuti distriga i suoi remi dei vostri quando son solo vado invece benissimo è divertentissimo veder dei novizi tentar di remare rispettivamente a tempo il prodiere trova impossibile andarti conserva col rematore di poppa perché il rematore di poppa rema in un modo così strano ma di questo il rematore di poppa si irrita e spiega che negli ultimi dieci minuti non ha fatto che cercare di adattare il proprio metodo alla limitata capacità del prodiere il prodiere a sua volta si sente oltraggiato e prega il rematore di poppa di non disturbarsi a guardar quello che fa lui ma di cercare di remare a modo o devo mettermi io a poppa aggiunge con l'impressione evidente che questo accomoderebbe subito ogni cosa sguazzano per un altro centinaio di metri sempre con poco successo e poi tutto il segreto del loro sconcerto balena al rematore di poppa con un lampo di ispirazione vuoi sapere perché tu hai presi i miei remi esclama volgendosi al prodiere dalle qua ora capisco anch'io mi domandavo come mai io non mi trovavo con questi risponde il prodiere irradiandosi e facendo molto volentieri lo scambio ora si andrà bene ma neanche allora vanno bene il rematore di poppa deve quasi slogarsi le braccia per raggiungere i suoi remi mentre i remi del prodiere a ogni ripresa gli danno un violento colpo in petto allora si scambiano di nuovo gli strumenti e vengono alla conclusione che il padrone della barca ha loro dato due paia di remi di un'altra imbarcazione e riversando il loro comune risentimento sul padrone corroborano la loro amicizia e la loro simpatia giorgio disse che spesso desiderava come un diversivo di condurre una zattera condurre una zattera non è così facile come sembra saprende subito come andare innanzi remando e come maneggiarla ma ci vuole una lunga pratica prima di poterlo fare con dignità e senza buttarsi l'acqua in una manica un giovane che io conoscevo ebbe una triste avventura la prima volta che andò a spasso con una zattera era andato innanzi così bene che era diventato perfino temerario e camminava su e giù per la zattera adoperando il palo con una grazia disinvolta assolutamente affascinante a vedere si spingeva fin sulla punta della zattera piantava il palo e poi corriva fino all'altra estremità proprio come un vecchio pratico di zattere ah era una cosa magnifica e la cosa avrebbe continuato a essere magnifica se egli disgraziatamente mentre guardava in giro a godersi il paesaggio non avesse fatto un passo più del necessario uscendo assolutamente fuori della zattera il palo era fissato saldamente nella mota ed egli rimase aggrappato al palo mentre la zattera s'allontanava galleggiando un monello che era sulla riva immediatamente strillò un compagno che lo seguiva di correre a vedere una scimmia aggrappata a un bastone io non potei correre in suo aiuto perché disgrazia volle che non avessimo preso la precauzione di portarci un secondo palo non potei far altro che rimanermene seduto a guardar l'amico la sua espressione nell'atto che il palo affondava lentamente con lui non la dimenticherò mai più era tanto pensosa lo vidi andar giù pian piano nell'acqua e lo vidi venirne fuori triste e grondante non potei non ridere dinanzi a una figura così ridicola continuai a gorgogliare fra me e me per qualche tempo ma poi a un tratto mi lampeggiò l'idea che riflettendoci bene io avevo poca ragione di ridere è come lì solo in una zattera senza il palo andar disperatamente alla deriva forse verso uno sbarramento cominciai a sentire una viva indignazione contro l'amico che se n'era uscito e andato in quella maniera avrebbe dovuto almeno lasciarmi il palo mi trascinai così per circa un quarto di miglio e poi arrivai in vista ad una zattera da pesca ormeggiata in mezzo alla corrente e nella quale stavano due vecchi pescatori mi videro diretto verso di loro e mi gridarono di virar di fianco non posso risposi gridando ma tu non lo tenti neppure dissero di rimando spiegai loro la cosa quando mi avvicinai e allora mi acchiapparono e mi prestarono un palo lo sbarramento era a 50 metri più giù son lieto che l'avessero costruito lì la prima volta che andai con una zattera fu in compagnia di tre altri amici che dovevano mostrarmi come si facesse siccome non potevamo recarci tutti e quattro alla stessa ora dissi che sarei andato io prima a pigliare la zattera e gli avrei fatto un po di pratica prima del loro arrivo quel pomeriggio non mi fu possibile noleggiare una zattera erano state tutte date e allora non avendo altro da fare mi sedetti sulla riva guardando il fiume e aspettando gli amici non ero rimasto lì a lungo quando la mia attenzione fu attratta da un giovane in una zattera il quale come notai con qualche sorpresa portava una maglia e un berretto esattamente simili ai miei era evidentemente novizio nell'arte di guidare una zattera e le sue esercitazioni erano molto interessanti non si sapeva mai dire ciò che sarebbe accaduto quando tuffava il palo certo non conosceva le proprie possibilità talvolta si slanciava controcorrente e talvolta secondo corrente e in qualche altro momento faceva un giro e si presentava dall'altro lato e a ogni risultato delle sue manovre e gli pareva ugualmente sorpreso e annoiato la gente intorno al fiume cominciò dopo un po a concentrare tutta la sua attenzione in lui e a fare delle scommesse sul probabile risultato della prossima spinta dopo qualche tempo i miei amici arrivarono sulla sponda opposta e si fermarono a guardare anch'essi il giovane volgeva loro le spalle ed essi vedevano soltanto la maglia e il letto da questo immediatamente saltarono alla conclusione che fossi io il loro diletto amico che facesse mostra della propria abilità e la loro gioia non ebbe limiti essi cominciarono a beffeggiarlo spietatamente sulle prime non avevo compreso il loro equivoco e pensavo come sono scortesi a comportarsi a quel modo e con una persona poi assolutamente estranea ma prima che potessi chiamarli e rimproverarli mi balenò la spiegazione della cosa e mi ritrassi dietro un albero o come essi si divertivano mettendo il ridicolo quel giovane per cinque buoni minuti continuarono a gridargli ogni sorta di insolenze a deriderlo schernirlo a tormentarlo peparono delle vecchie facezie ne crearono anche delle nuove e gliele scagliarono buttarono tutti i vecchi motteggi familiari del nostro circolo che dovevano arrivare al bersagliato perfettamente indecifrabili e poi incapace di resistere più oltre a quel brutale fuoco di fila quegli si voltò e poterono guardarlo in faccia io fui lieto di osservare che ad essi era rimasto abbastanza decoro da assumere un aspetto da scemi spiegarono al giovane che lo avevano scambiato per uno di loro conoscenza dicendo che speravano non li stimasse capaci di insultare chiunque non fosse un loro amico personale naturalmente l'averlo scambiato per un amico li scusò ricordo che harris mi raccontò un'avventura marina capitata agli a boulogne stava nuotando nei pressi della spiaggia quando si sentì preso di dietro improvvisamente per il collo e a forza tuffato sott'acqua egli lottò violentemente ma chi l'aveva abbrancato doveva essere un perfetto ercole e tutti gli sforzi di harris per sfuggirgli furono assolutamente vani aveva rinunziato a dar calci e aveva rivolto il pensiero da augusti oggetti quando il suo catturatore lasciò la presa harris si rimise in piedi e si volse per vedere l'assalitore l'assalitore gli stava accanto ridendo cordialmente ma nell'istante che scorse la faccia di harris emersa dalle acque diede un balzo indietro e apparve assolutamente sconcertato veramente vi domando scusa balbettò confusamente ma vi avevo scambiato per un mio amico harris pensò ad essere stato fortunato a non essere scambiato per un parente altrimenti sarebbe stato annegato in 448 anche ad usar la vela occorre conoscenza e pratica benché dal ragazzo non lo immaginassi credevo che fosse una cosa naturale come il giro girotondo e gli altri giochi infantili conoscevo un altro ragazzo che aveva la mia stessa opinione e così un giorno di vento ci venne in mente di darci a veleggiare stavamo a yarmouth e decidemmo di arrivare fino a ieri noleggiamo una barca a vela a un cantiere presso il ponte e salpammo è una giornata un po brusca ci disse il padrone mentre si partiva meglio far terzuolo e mantenersi all'orza arrivando alla curva rispondemmo che ce ne saremmo ricordati e lasciandolo con un allegro arrivederci ci domandammo come far terzuolo e dove arrivare all'orza e che bisognasse farne quando l'avessimo remammo finché non perdemmo di vista la città e poi con un vasto tratto d'acqua dinanzi e il vento impetuoso di perfetta burrasca comprendemmo che era tempo di cominciare le operazioni ettore credo che si chiamasse così continuò a remare mentre io svolgevo la vela sembrava un lavoro complicato ma io lo compii tutto e allora mi domandai quale fosse il di sopra per una specie di istinto naturale noi si intende decidemmo eventualmente che la parte inferiore fosse la superiore e ci applicammo a fissarla al rovescio ma ci volle molto per rissarla storta o dritta che fosse l'impressione sullo spirito della vela era che noi stessimo giocando ai funerali e che io fossi il cadavere ed essa il sudario quando trovò che non era così mi colpì la testa col palo e rifiutò di far nient'altro bagnala disse ettore abbassala e bagnala disse che si usava bagnare le vele prima di hissarle così io la bagnai ma questo peggiorò lo stato delle cose una vela asciutta che vi s'aggrappa alle gambe vi s'avvolge alla testa non è piacevole ma quando la vela si è impregnata d'acqua diventa irritante finalmente tutti e due insieme riuscimmo a fissarla ma esattamente sotto sopra un po' lateralmente e la legammo all'albero con la gomena tagliata per quello scopo io riferisco semplicemente come un fatto che la barca non si rovesciò non so dare alcuna ragione del perché non si rovesciasse spesso dopo ci ho ripensato ma non sono mai riuscito a trovare una spiegazione sufficiente del fenomeno forse esso fu l'effetto della naturale contrarietà delle cose di questo mondo chissà che la barca non fosse giunta alla conclusione giudicando da un'idea superficiale della nostra condotta che noi quella mattina avessimo l'intenzione di suicidarci e che quindi avesse deliberato di deluderci questa è l'unica spiegazione che io possa offrire con l'abbrancarci disperatamente al capo di banda riuscimmo a tenerci al di dentro della barca ma lo sforzo ci prostrò Ettore disse che i pirati e gli altri marinai legavano il timone a non so che e ammainavano la vela principale durante le raffiche tempestose e che anche noi si poteva tentare qualcosa di simile ma io fui dell'avviso di lasciare che l'imbarcazione seguisse il vento siccome il mio consiglio era il più facile da seguire finimmo con l'adottarlo sforzandoci di abbracciare il capo di banda e far andare a suo talento la barca la barca viaggiò controcorrente per circa un miglio a una velocità alla quale non sono mai andato più veleggiando e non vorrò mai andare una seconda volta poi alla curva sbandò fino ad aver la vela sott'acqua quindi si raddrizzò per un miracolo e volò verso un lungo e basso banco di soffice fango il banco di fango ci salvò la barca si scavò un varco fin nel mezzo e vi si incuneò trovando che eravamo ancora capaci di muoverci a nostra voglia invece di essere sbattuti e agitati come due piselli in una vescica strisciamo innanzi e tagliamo la vela ne avevamo abbastanza non volevamo esagerare il divertimento e averne più del necessario si era veleggiato e in complesso con grandi interessi e animazione e pensammo che era tempo di metterci a remare per un diversivo prendemmo i remi e tentammo di disincagliare la barca dal fango e nel tentativo rompemmo un remo allora procedemmo con molta cautela ma era un maledetto paio di remi e il secondo si spezzò con maggiore facilità del primo e ci lasciò disperati il fango si stendeva per circa un centinaio di metri dinanzi a noi e di dietro c'era l'acqua l'unica cosa da fare era sederci e aspettare che qualcuno ci passasse accanto non era quella una giornata che attirasse gente sul fiume e passarono tre ore prima che si vedesse un'anima fu un vecchio pescatore che con immensa difficoltà finalmente ci salvò e noi fummo rimorchiati ignominiosamente fino al cantiere fra il dare una mancia all'uomo che ci riportò sani e salvi il pagare i remi rotti e l'essere stati a divertirci quell'ora e mezza quella vela ci costò una somma non indifferente ma sarà fatta un po d'esperienza e l'esperienza si dice è sempre a buon mercato a qualunque prezzo capitolo sedicesimo reading siamo rimorchiati da una lancia a vapore irritante condotta dei canotti come inceppano la rotta delle lanci a vapore giorgio e harris schivano di nuovo il lavoro una storia piuttosto comune stretti e gore verso le 11 arrivamo in vista di reading dove il fiume è sudicio e lugubre i dintorni di reading non invitano a una sosta la città è celebre e data dagli oscuri tempi di re etelred quando i danesi ancoravano i loro vascelli nel kennet e partivano da reading per devastare tutta la campagna di wessex e qui etelred e il fratello alfredo combatterono sbaragliandoli etelred pregando e alfredo battagliando sembra che più tardi reading fosse considerata un comodo rifugio quando non si stava bene a londra in generale il parlamento si precipitava reading tutte le volte che una peste infieriva westminster e nel 1625 il foro fece la stessa cosa e tutte le corti furono aperte a reading doveva essere comodo avere di tanto in tanto la peste a londra e sbarazzarsi degli avvocati e del parlamento durante la lotta parlamentare reading fu assediata dal conte di essex e un quarto di secolo più tardi il principe d'orange vi sbaragliò le truppe del re giacomo enrico primo è sepolto a reading nell'abbazia dei benedettini fondata da lui se ne vengono ancora le rovine e nella stessa abbazia il gran giovanni di gaunt sposò lady blanche alla chiusa di reading trovammo una lancia vapore di alcuni amici miei che ci rimorchiarono fino a circa un miglio da stretley è delizioso essere rimorchiati da una lancia vapore lo preferisco al remare la rotta sarebbe stata ancora più deliziosa se non fosse stato per un branco di miserabili barche che inceppavano continuamente il cammino della lancia per evitar di investirle dovevamo ogni tanto star bene attenti e fermarci è veramente seccantissima la maniera come quelle barche arremi ostacolano la via ad una lancia sul fiume si dovrebbe pensare a far cessare questo sconcio e sono anche così maledettamente insolenti potete fischiare fino a far scoppiare la caldaia prima che si scomodino a tirarsi da parte se potessi fare a mio modo ne investirei un paio di tanto in tanto se non altro per dar loro una lezione il fiume diventa molto ameno un po al di sopra di reading la ferrovia lo guasta un po presso tilehurst ma da maple darkham fino a stretli è bellissimo un po al di sopra della chiusa di maple darkham si passa innanzi ad harwick house dove carlo primo giocava bocce i dintorni di pengborn dove sorge lo strano albergo del cigno deve essere così familiare ai frequentatori delle mostre d'arte come ai suoi stessi abitanti la lancia dei miei amici ci lasciò precisamente al di sotto della grotta e allora harris volle sostenere che fosse la mia volta di remare questo mi parvi assai irragionevole era stato stabilito nella mattinata che io avrei condotto la barca fino a tre miglia al di sopra di reading bene ci trovavamo dieci miglia al di sopra di reading certo ora era il loro turno però non mi riuscì di far vedere né a giorgio né ad harris la faccenda nella sua giusta luce e per non discutere più presi io i remi non avevo ancora remato per più di un minuto a un dipresso che giorgio scorse qualche cosa di nero galleggiante sull'acqua e noi vogamo verso quel punto giorgio si chinò quando vi fumò da presso e stese la mano poi si ritrasse con un grido e con la faccia bianca come un cencio era il cadavere di una donna galleggiava molto leggermente e aveva dolce e calmo il viso non era un bel viso aveva l'aspetto di una precoce maturità ed era troppo sottile e demaciato ma pur tuttavia aveva un'impronta di gentilezza e di simpatia anche nella sua aria d'angustia e di miseria vi aleggiava ancora quello sguardo di pace e di riposo che spunta sui visi degli infermi quando infine la sofferenza li ha abbandonati fortunatamente per noi non avevamo alcun desiderio da girarci intorno agli uffici giudiziari anche alcune persone sulla riva avevano veduto il corpo e ad esse lo affidammo scoprimmo dopo la storia della donna naturalmente era la vecchia volgare tragedia e l'aveva amato ed era stata ingannata o s'era ingannata da sé a ogni modo aveva peccato alcuni di noi fanno di tanto in tanto la stessa cosa e la sua famiglia e i parenti urtati e indignati naturalmente le avevano chiuso la porta in faccia lasciata lottare sola nel mondo con la macina della sua vergogna legata al collo ella era precipitata sempre più in basso per un po s'era sostenuta lei e il bambino con una quindicina di lire la settimana datele da un duro servizio giornaliero pagandone sette per il bambino e tenendo insieme l'anima e il corpo col resto otto lire la settimana non tengono bene aderenti l'anima e il corpo essi quando fra loro vè un legame così leggero tendono a separarsi e un giorno immagino la sofferenza e la triste monotonia ad ogni cosa le erano apparse più chiare innanzi agli occhi e lo spettro del dileggio l'aveva spaventata e l'aveva fatto un ultimo appello ai parenti ma la voce della sventurata errabonda si spense contro il freddo muro della loro rispettabilità e poi la donna era andata a visitare il bambino se l'era tenuto in braccio e baciatolo e come stanca e senza slancio e senza rivelar nessuna particolare commozione l'aveva lasciato mettendogli in mano una scatoletta di cioccolatini poi con le ultime poche lire aveva comprato un biglietto per il tratto della ferrovia fino a goren sembrava che i più umani pensieri della sua vita si fossero concentrati intorno alle contrade boscose e ai verdi prati lucenti di corin ma le donne prediligono stranamente il pugnale che le trafigge e forse nel fiele si dovevano mischiare le radiose memorie di ore dolcissime trascorse su quegli abissi profondi sui quali i grossi alberi incurvano i loro rami e l'aveva vagato tutto il giorno per i boschi in riva al fiume e poi al calar della sera e al grigio crepuscolo che spargeva la sua fosca veste sulle acque e la stese le braccia alla corrente silenziosa che aveva conosciuto la sua tristezza e la sua gioia e il vecchio fiume l'aveva raccolta nelle sue morbide braccia fugandole ogni sofferenza così la donna aveva peccato in ogni cosa peccato vivendo e morendo dio l'aiuti lei e tutti gli altri peccatori se ancora ce ne sono gorin sulla riva sinistra e stretley sulla destra sono entrambi bei luoghi per indugiarvi pochi giorni i tratti fino a pungbone allettano per un'escursione a vela e sotto il sole o per una vogata al chiaro di luna e la campagna tutta intorno è piena di bellezza avevamo determinato di spingerci fino a wallingford quel giorno ma la dolce sorridente faccia del fiume in quel punto ci persuase a sostare un po e così lasciamo la nostra barca presso il ponte ed entrammo in stretley e facemmo colazione al toro con gran soddisfazione di montmorency si dice che le colline dall'uno e l'altro lato della corrente una volta fossero congiunte e formassero una barriera attraverso ciò che è ora il tamigi e che quindi il fiume finisse al di sopra di gorin in un vasto lago io non sono in condizioni né di contraddire né di corroborare questa affermazione la riferisco semplicemente stretley è molto antica e risale come molte città e molti villaggi sulla sponda del fiume ai tempi dei britanni e dei sassoni gorin non è così leggiadro che vi si possa sostare come a stretley quando si può scegliere ma è abbastanza bello nel suo genere e più vicino alla ferrovia nel caso vogliate svegnarvela senza pagare il conto dell'albergo